Edder, Mech, Pallister. Dagli inquirenti, hanno fornito ulteriori indizi, tra queste, l'indagine su come avvelenare una donna incinta e come avvelenare un feto. Inoltre, Giulia Tramontano aveva raccontato alla madre di essersi sentita poco bene dopo aver ingerito una bevanda calda casalinga. Gli ultimi sviluppi lasciano intendere che Alessandro Impagnatiello aveva intenzione da tempo di togliere di mezzo la sua fidanzata e il bambino che portava in grembo. Tuttavia, questo contrasta con le dichiarazioni rese dallo stesso barman durante gli interrogatori, dove ha sempre affermato di aver agito d'impulso. Spaventato dal fatto che la fidanzata e l'amante avessero scoperto la sua doppia vita, inoltre, emerge una situazione di coppia ormai logora, tra le continue bugie di lui e la sofferenza di lei, che voleva abortire e tornare dai suoi genitori a Napoli. Nonostante ciò, quando Giulia Tramontano lo mette davanti alla decisione di dirsi addio, lui non ci sta, pone addirittura una domanda sconcertante. Ti sembra normal parlare così con un bimbo in pancia? Ma che madre sei! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriviti al nostro canale! Ehi, non dimenticare di iscriviti al nostro canale! Ehi, non dimenticare di iscriviti al nostro canale!